Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzacci e ragazzacci Allora, io sono ancora bello contento perché avete visto che dopo aver fatto una foto, un autografo da Cristina D'Avena gli ho chiesto gentilmente se voleva farmi gli auguri di compleanno e lei è stata disponibilissima cioè l'avete visto quindi sono contento di questo, cioè ricevere gli auguri di compleanno da Cristina D'Avena per me non ha prezzo visto che comunque sono cresciuto con le sue canzoni e l'ascolto tuttora magari alcuni di voi dicono ma tu sei rock, ma tu qui, io sono rock ragazzi però Cristina D'Avena, ho anche lei nel sangue perché comunque nella mia infanzia io l'ascoltavo l'ascolto ancora tuttora molto volentieri, cioè metto anche il 5.1 a palla con le canzoni di Cristina grazie ancora Cristina, se mai vedrai questo video ti ringrazio ancora per la tua disponibilità perché non è che tutti gli artisti hanno questa disponibilità e quella simpatia che hai avuto tu nel fare questo video di auguri per me quindi grazie ancora, grazie, grazie, grazie Cristina, io quel video lo rimetterò per ogni mio compleanno perché è una cosa, cioè da... l'ho rivisto 50 volte già, ecco l'ho rivisto già 50 volte, grazie ancora Cristina ciao a tutti ragazzi, io so che nessuno di voi se lo aspettava una cosa del genere eppure ho ricevuto gli auguri di compleanno da Cristina D'Avena grazie ancora a Cristina D'Avena e grazie ancora a tutti voi ciao ragazzacci dal vostro DiabloTex ciao a tutti ciao a tutti